Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Honda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con la Furisma. Oggi voglio parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, cioè le persone presuntuose e le persone umili, quelle persone che pur essendo qualcuno, nel senso che pur essendo importanti, rimangono umili e in contrapposizione a coloro che invece, che non sono state a mano giuna, una volta che diventano poco poco importanti si credono di essere chi sa chi. E quindi si crea questa disparità tra chi sa di essere importante e non lo dimostra, non lo fa pesare e chi sa di non essere stato mai niente, nel momento in cui sale un gradino si sente sopra in cielo, si sente superiore agli altri. Allora tutti quanti abbiamo avuto modo di scontrarci con conoscenti o persone anche non conosciute che magari abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo di cui abbiamo avuto notizia, persone che nella loro vita sono partite, diciamo, da quelle famose persone che si sono fatte la gavetta, come si dice, no? Che quindi sono partite da zero e poi per meriti di studio, per meriti professionali, gente che si è impegnata, gente che si è distinta, che ha sempre creduto in se stessa, gente che è riuscita ad affermarsi, si è fatto una certa posizione professionale, una posizione culturale, sono persone che magari vantano dei ruoli di prestigio, però ciò nonostante non si dimenticano, non si dimenticano di cosa, non si dimenticano del loro punto di partenza. E invece ci sono coloro che non si sa come si ritrovano a rivestire dei ruoli di dirigenza, dei ruoli di comando, dei ruoli importanti perché magari non si sa come si ritrovano là e si sentono talmente superiori da estranearsi dalla realtà. E qual è l'aforismo? L'aforismo è quello che dice che quando arriva la gloria finisce la memoria. Tradotto quando arriva la gloria svanisce la memoria. E che significa? Significa proprio quello che ho detto fino a mo'. Che quando, per fortuna non succede sempre, ma succede abbastanza spesso, quando si diventa famosi o importanti o ci si ritrova in un posto di un certo rilevo, ci si dimentica di quello che si è stato, ci si dimentica degli aiuti ricevuti quando si era più giovani, ci si dimentica dei favori ricevuti quando non si era nessuno, ci si dimentica di qualunque tipo di aiuto e di beneficio che è stato fatto. Andiamoci chiaro, in una società civile, bella, come la nostra, tutti quanti ci aiutiamo. Non credo che ci sia una persona che nasce e cresce senza aver avuto mai bisogno dell'aiuto, dell'affetto, della comprensione di qualche non altra. È impossibile. Tutti, tutti, siamo cresciuti con la consapevolezza che nel momento di difficoltà abbiamo trovato una mano da parte di un conoscente, di un parente, di un familiare, sul luogo di lavoro da parte di un collega, di un superiore. Cioè, in qualunque situazione ci siamo trovati, c'è sempre stato l'aiuto di qualcuno che in quel momento ci ha agevolato. Ma questo vale per tutti i casi della vita. Quanto è l'ammalata che sta dentro un ospedale? Eppure l'ammalato che sta dentro un letto d'ospedale ha bisogno dell'altro ammalato che sta vicino a lui che magari nel momento in cui l'infermiero sta impegnato, la buona roba eccetera, l'altro ammalato gli dà quel bicchiere d'acqua dentro la casa della posa. L'anziano che sta nella casa della posa ha bisogno dell'altro anziano che all'orario di demenza lo sposta dalla carrozzella e lo avvicina al tavolo perché non sempre si può contare sull'impiego del personale che magari sta impegnato. Ma abbiamo bisogno nel momento in cui buchiamo la ruota della macchina e si ferma l'automobilista che ci dà la mano a mettere il clic a cambiare la ruota della macchina. Abbiamo bisogno semplice. Aver bisogno di qualcuno non significa che uno sta là se sta a morire di fame e quell'altro deve dare la magna in bocca. No, non significa questo proprio il caso estremo. Questo è l'esempio che non succederà mai. L'aiuto è l'aiuto anche quando ci sta la neve che la macchina slitta e l'altro ti dà una spinta e ti aiuta a uscire da quella situazione di disagio, di stallo. Gli aiuti sono tanti. Poi ci sono gli aiuti un po' più consistenti quando per esempio veniamo aiutati nel fare carriera, veniamo aiutati nel luogo di lavoro a emergere un po' sugli altri, veniamo aiutati... Ci sono aiuti e aiuti. Tanta gente li riceve questi aiuti, tanta gente quando non se li fila nessuno, maschi o femmine, a loro si vanno aggrappando agli amici e si cercano di trovare la comitiva giusta con cui stare. Quando poi però hanno trovato il loro spazio, se ne scordano degli amici, ti incontrano, ti manca salutano, oppure tu ricerchi per un modio qualunque e manco ti rispondono, o si fanno desiderare, oppure ti dici richiamami fra un'ora, tu richiami dopo un'ora e mi trascondono la manca, cioè proprio ti trattano come dire non sei nessuno, io sono oramai diventato chi sa chi. Quella è gente che non serve, è gente che non serve a niente, perché il vero signore, la vera signora è la persona che anche diventando, anche innalzandosi a livello sociale, anche innalzandosi a livello culturale, professionale, non dimentica mai le proprie origini. Stamattina, proprio stamattina è bello fresco, fresco, questa è una cosa di giornata, come l'uovo, come la panna frisca, come l'uovo della caia, di giornata. Stamattina un mio amico, che da tempo che non vedo, sono anni che non lo vedo di persona, ma che ci sentiamo telefonicamente ogni tanto, stamattina questo grandissimo amico mio, che è un amico che la A maiuscola, al quale io ho chiesto una cortesia, stiamo parlando del più del meno, senza che io gli chiedessi espressamente la cortesia, lui non mi ha capito al volo e mi ha detto carlè, non ti preoccupare, ti do una mano io per quello che posso fare. Non gli ho chiesto niente di illegale, quindi che nessuno pensi a male, e gli ho chiesto un favore personale di un aiuto che serve a me, a me, e lui mi può fare una cosa, e me ti rende preoccupato, per quello che posso ci penso io. Ma si è offerto lui senza che io glielo chiedessi, perché io ero imbarazzato nel chiedergli questo favore, e lui l'ha capito, perché ci conosciamo da andiamo, e questa persona che è una persona che veramente è un qualcuno che ha un certo ruolo nella società, ha un certo ruolo, una persona che io guardo dal basso, in alto, ma molto in alto, eppure una persona che è rimasta talmente umile, è un signore talmente grande, che non ha mai dimenticato di essere un amico, perché posso veramente dire che fra i due io non sono nessuno, veramente non sono giù, e lui è qualche cosa di molto importante nella società, perché ha avuto anche dei grossi incarichi a livello ministeriale, eccetera. Eppure una persona che non mi ha fatto manca per la voca, non mi ha fatto manca per la voca, ha capito la mia richiesta, questa è gente che io stimo, questi sono i veri signori, non che la gente che non so nessuno, solo perché è una piatra, non ha cingito laurea, una cosa perché è una piatra non può, si sa che cacchio si crida, solo perché si sono sottamata da una parte, tu lo chiami, a quest'ora mi chiami, è questa l'ora di chiamare, ma chi sei? Scendete dal suo pietastale, gente che non siete nessuno, che avete sempre avuto i genitori che vanno fatti tutti, che vanno portati a peggiate, gente che vi hanno dato tutto, che di vostro non avete fatto tanto, perché non siete stati capaci a fare tanti di vostro, perché siete nati nelle famiglie dove grazie a Dio non vi è mai mancato nulla, non vi vanno portati a peggiate, a dove avete trovato i padri mori che vanno su un pad up call, oggi vi sentite i padri eterni, ma chi siete? Prendete esempio della gente veramente in gamba, che è umile, pur essendo gente che conta, non chi che non sono nessuno, e se chiede di essere i padri eterni, quindi quando arriva la gloria, svanisce da mamori, ricordatevi chi eravate, quando nessuno vi guardava in faccia, ricordatevelo, e questo vale sempre, siate umili, siate umili, con chiunque, e io mi onoro e mi mando, di avere amici di ogni cedro sociale, è un onore per me, perché per me la gente la valuto, non per quello che ha, o per quello che fa, la valuto per quello che è, non per quello che ha, ma per quello che è. Buonasera a tutti, arrivederci.